33 nuovi autobus che la società trasporti provinciale STP ha recentemente acquistato. 16 di questi saranno messi in strada già dai primi giorni di questo mese sulle principali linee della società nel territorio della città metropolitana di Bari e della sesta provincia di Barletta, Andrea Trani. Si tratta di autobus Iveco Crossway lunghi 12 metri adatti per i servizi extraurbani e quindi dotati di tutti i comfort anche per i viaggi più lunghi. I mezzi sono asserviti da nuove tecnologie, telecamere a bordo per la sicurezza nelle salite e discese dei passeggeri, contapasseggeri e pedane mobili per persone con disabilità. Sono in grado di ospitare fino a 83 passeggeri di cui 45 comodamente seduti. La motorizzazione dei bus è diesel con emissioni rientranti nei limiti Euro 6 e gli stessi sostituiscono i veicoli Euro 0, 1 e 2. Ciascuno di questi nuovi bus è costato 188 mila Euro. Complessivamente l'investimento per i 33 nuovi bus è stato di 6 milioni 391 mila Euro di cui 4 milioni 473 mila e 700 euro finanziati dalla regione Puglia. Il patto per la Puglia è 1 milione 917 mila e 300 euro a carico di società trasporti provinciale. Ieri a Trani in piazza Duomo la presentazione ufficiale. Non è importante fare utili per poi dividerseli e semmai elargirsi i premi di produzione. Al contrario è importante acquistare mezzi a beneficio dell'utenza. È giusto che i cittadini possano camminare per le vie della città, della provincia in mezzi che siano consoni. In questo caso credo che abbiano assolutamente alzato l'asticella. Hanno acquistato 33 mezzi super tecnologici, super moderni che sicuramente rilanciano in positivo un'azienda. È soltanto l'inizio. Non posso che ringraziare l'attuale Consiglio di amministrazione per il grande lavoro svolto. Ma è evidente che questo è tutto un lavoro in sinergia. È un lavoro in sinergia che è portato avanti dai soci, ricordo su tutti, Amet e Comune di Trani per il 49% e la restante parte invece provincia Abbat e città metropolitana. Quindi il Presidente Giorgino è il Sindaco De Caro. Un ruolo determinante in tutto questo la Regione Puglia. Il Presidente Emiliano, l'assessore dei trasporti Giannini che sicuramente attraverso i bandi consentono di poter rinnovare il parco mezzi e sicuramente trasformare questa azienda in una grande azienda pubblica.